Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, siamo giunti al secondo giorno della quindicina dell'Assunta Come nei giorni precedenti, iniziamo a meditare brevemente sul libro di Giuseppe Schrivers, La Madre Mia per poi riflettere sulla festa di oggi, ovvero sulla festa del perdono di Assisi Al quarto capitolo del libro La Madre Mia, con parole piene di devozione, Giuseppe Schrivers parla di ciò che la Madonna è per ciascuno di noi Essendo la Madonna costituita nostra madre, ossia mediatrici di tutte le grazie Dio fa dipendere dalla sua libera volontà la comunicazione di tutti i soccorsi che ci destina Egli ha dato, senza dubbio, a questa Vergine Divina un cuore di madre capace di amare tutti i suoi figli Ma non vincola la sua azione, le lascia la sua iniziativa Le dà la libertà di avere premure speciali o una vigilanza e una tenerezza particolare per alcuni suoi figli Dunque, la Madonna non è un semplice canale della grazia, uno strumento passivo nelle mani di Dio La Madonna corrisponde all'azione di Dio attivamente Al punto che Dio le lascia la decisione di come diffondere la grazia ai figli suoi E la sua decisione è sempre secondo i voleri di Dio Per questo motivo San Bernardino da Siena affermava che Maria distribuisce le grazie a chi vuole Nella misura che vuole e quando vuole Dio ha messo tutto nelle sue mani e sarà lei a decidere come diffondere la grazia di cui ella è ripiena Usando un paragone molto semplice è come se il marito che lavora e guadagna lo stipendio Mettesse tutto il denaro nelle mani della sposa Affinché sia lei ad amministrarlo secondo i bisogni della famiglia Certamente Dio può fare anche a meno di questa mediazione Ma Egli ama servirsi delle sue creature come di persone intelligenti e libere Passando per il cuore di Maria La grazia divina assume un inconfondibile profumo materno Si marianizza e si proporziona alla nostra debolezza E tutto questo rientra nell'ammirabile providenza divina Ella, la madre di misericordia, ha una tenerezza tutta particolare nei confronti dei suoi figli Ella, insegna Giuseppe Cerivers È sensibile agli omaggi che gli offrono i suoi figli Si lascia piegare dalle preghiere e dalle lacrime Si commuove alla vista della sventura Non resiste a una prova di affetto È attratta dalla semplicità e dall'umiltà Amiamo la Madonna Amiamola con tutto il cuore E saremo amati da Dio Dio, afferma Giuseppe Cerivers Ha una particolare predilezione per quelli che amano la Madonna Egli è buono con tutti Ma lo è in modo particolare con quelli che amano la Madonna Giuseppe Cerivers così afferma Dio lascia fare alla Madonna Nulla contraria nella sua opera e nei suoi affetti di madre Sarà buono per coloro che essa ama e per i quali essa prega Amerà specialmente i suoi figli più devoti Come dicevo all'inizio, oggi è la festa del perdono di Assisi Le fonti francescane narrano che una notte dell'anno 1216 San Francesco era immerso nella preghiera presso la Porziuncola Quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce Ed egli vide sopra l'altare il Cristo e la sua madre Santissima Circondati da una moltitudine di angeli Essi gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime La risposta di Francesco fu immediata Ti prego che tutti coloro che pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa Quello che tu chiedi, oh frate Francesco, è grande, gli disse il Signore Ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai Accolgo quindi la tua preghiera ma patto che tu domandi al mio vicario in terra Da parte mia questa indulgenza Francesco si presentò subito al pontefice Onorio III che era a Perugia Il Papa lo ascoltò con attenzione e diede la sua approvazione Alla domanda Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza? Il Santo rispose Padre Santo, non domando anni, ma anime E, felice, il 2 agosto del 1216 Insieme ai Vescovi dell'Umbria San Francesco annunciò al popolo convenuto alla Porziuncola Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso Per ottenere questa indulgenza bisogna adempiere ad alcune condizioni La prima condizione è quella di visitare una chiesa francescana oppure una chiesa parrocchiale dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto il 2 di agosto Durante questa visita bisogna recitare un Padre Nostro e un Credo Per adempiere alle altre condizioni vi è tempo una settimana Le altre condizioni sono Confessione, comunione e una qualsiasi preghiera secondo le intenzioni del Papa Ad esempio un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre Infine vi è un'ultima condizione, quella più importante e anche più difficile Il distacco dal peccato, anche dal più piccolo Ciò vuol dire che dobbiamo avere il fermo proposito di non commettere nessun peccato Chiediamo questa grazia alla Madonna La grazia di avere questo perfetto distacco dal peccato Se non vi è questo perfetto distacco dal peccato Magari siamo legati ancora a qualche peccato veniale L'indulgenza invece che essere plenaria diventa parziale La ricorrenza di oggi ci fa riflettere sull'importanza di riparare i nostri peccati Noi veniamo perdonati con il sacramento della confessione E questa è la cosa più importante che ci assicura la salvezza Ma poi bisogna riparare i peccati Si riparano con la preghiera, con la penitenza e con le buone opere Se non si riescono a riparare completamente Si continueranno a scontare in purgatorio Le indulgenze, se sono plenarie Ci consentono di scontare completamente i nostri peccati In modo che, se in quel momento si muore Non si va in purgatorio Se invece l'indulgenza è parziale Si sconta solo una parte dei nostri peccati Il resto si deve espiare in purgatorio Chiediamo dunque alla Madonna Chi ci doni questo perfetto distacco dal peccato Questo perfetto distacco è la grazia più grande Che possiamo chiedere a lei E lei, se noi perseveriamo con sincerità in questa preghiera Ce la donerà L'indulgenza della porziuncola E ora, come ogni indulgenza Si può ottenere per se stessi Oppure per l'anima di un defunto E ora, cari fratelli e sorelle Terminiamo con la preghiera alla Madonna Preghiera che oggi sarà una di quelle Composte da San Francesco d'Assisi Ave Signora Santa Regina Madre di Dio Maria Che sei Vergine fatta a Chiesa Ed eletta dal Santissimo Padre Celeste Che ti ha consacrata insieme Con il Santissimo suo Figlio di Letto E con lo Spirito Santo Paraclito Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene Ave suo palazzo Ave suo tabernacolo Ave sua casa Ave suo vestimento Ave sua ancella Ave sua madre E saluto voi tutte, sante virtù Che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo Venite infuse nei cuori dei fedeli Perché da infedeli Fedeli a Dio Li rendiate Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora Della nostra morte Amen Vergine assunta in cielo Prega per noi Prega per noi Grazie a tutti.